È in arrivo il nuovo anno. In questa versione dell'oroscopo affronteremo una serie di domande sull'anno 2025 per cercare di intuire che anno ci aspetta secondo le dinamiche del cielo che avremo appunto il prossimo anno. Quindi benvenuti, benvenute. Prima di partire con l'approfondimento dell'oroscopo 2025 vi ricordo che il progetto Astrologia Tradizionale ha attivato la possibilità di iscriversi a un percorso di astrologia edizione 2025 che partirà da febbraio. È un percorso che prevede un approfondimento della dottrina astrologica partendo da una fase zero, quindi da una fase che è aperta a tutti, sia a chi già conosce o ha conoscenze basiche dell'astrologia, sia per chi parte da zero e vuole entrare nel mondo dell'astrologia. È un percorso che è organizzato in modo tale da offrire le conoscenze della dottrina astrologica da una fase propedeutica e teorica e poi per entrare in un primo approccio pratico di studio del tema di nascita e della carta di nascita. Questo percorso si chiama Fondamenti Celesti diviso in due parti dove troverete me e anche Rossana Strica e dove vi porteremo un percorso dove partiremo dai principi dell'astronomia utile all'astrologia e quindi cercheremo di capire che cos'è l'astrologia per poi entrare anche all'interno di tecniche, di metodi, di approcci interpretativi alla carta di nascita. È un primo percorso che permette di entrare nel mondo dell'astrologia. Per chi fosse interessato trovate il link nella descrizione a questo video, già abbiamo molti iscritti quindi c'è ancora la possibilità di iscriversi, accettiamo massimo 25 iscrizioni quindi ancora abbiamo qualche posto disponibile. Detto questo partiamo con una breve panoramica di insieme osservando i transiti più significativi del 2025 cominciando intanto dal pianeta più distante tra quelli visibili ad occhio nudo ovvero da Saturno che per tutto il 2025 sarà ancora nel segno dei pesci. Tuttavia durante il nuovo anno Saturno farà una breve incursione nel segno dell'Ariete indicativamente dal 25 maggio al primo settembre. Arriverà Saturno in Ariete fino al grado 1 e 56. Saturno in Ariete poi ovviamente ritornerà indietro e diciamo da settembre ripercorrerà per via del moto retrogrado il segno dei pesci quindi concluderemo il 2025 con Saturno in pesce. Giove nella prima parte dell'anno concluderà il suo transito nel segno dei gemelli poi dal 9 giugno entrerà nel segno del cancro e vi rimarrà fino a fine 2025. A inizio anno Marte sarà retrogrado in Leone per poi riprendere il moto diretto dal 24 febbraio dal segno del cancro e procederà fino a fine anno di moto diretto attraversando i segni che vanno dal cancro al segno capricorno. Mercurio. Mercurio avrà tre moti retrogradi nei segni di fuoco quindi Ariete, Leone, Sagittario. Andando verso i tre generazionali Plutone in acquario arriverà fino al grado 3 e 49 farà un moto retrogrado che lo porterà a un grado e 22 dell'acquario ma comunque rimane in acquario quindi abbiamo ormai il passaggio definitivo di Plutone in acquario. Urano da inizio anno a luglio sarà nel segno del toro poi dal 7 luglio entra in gemelli fino all'8 novembre quando per via di un moto retrogrado ritornerà nuovamente in toro fino a fine anno. Nettuno a inizio anno sarà in pesci e dal 30 marzo entrerà in Ariete poi il 22 ottobre rientrerà in pesci per via di un moto retrogrado fino a fine anno. Per quanto riguarda Venere realizzerà i momenti specifici delle buone alleanze con Giove che valorizzeremo più avanti in un paragrafo anzi in un capitolo dedicato specificatamente a Venere. Sicuramente per il 2025 possiamo dire che la cosa interessante è che abbiamo tantissimi pianeti che cambiano segno. Giove dai gemelli passa al cancro, Saturno dai pesci passa in ariete anche se brevemente sarà un accenno per poi ritornare in pesci. Urano idem dal segno del toro passa in gemelli poi ritornerà in toro. Nettuno dal segno del pesci passa in ariete per poi ritornare in pesci. Quindi abbiamo insomma un cielo molto dinamico dove nel 2025 almeno a livello di dinamica celeste abbiamo proprio dei passaggi di stato molto importanti decisivi. Ci sono cambiamenti nel cielo potenti. In questo approfondimento non affronterò l'astrologia mondiale anche se darò qualche riflessione sul collettivo e vi annuncio che poi per il nuovo anno quindi tra gennaio febbraio del nuovo anno dedicherò un approfondimento specifico di astrologia mondiale. Ma ora entriamo nell'approfondimento per il nuovo anno. Saturno custode dei confini dell'esistenza, signore del tempo, è anche nel 2025 implacabile nelle terre e acque dei pesci. Giace in quella che Alberuni chiama dimora degli angeli ma anche dimora dei santi, dei sacerdoti, dei magi ma anche luogo dei lamenti o della lamentazione. Dimora quella dei pesci del sogno quanto dell'incubo quindi del dissolvimento. Potremmo dire che in questo segno Saturno non impugni la falce con rigore, la sua falce con rigore, ma lascia che il suo sguardo si perda tra le ombre dell'immaginazione che quindi inevitabilmente lasciano all'orizzonte confini, obiettivi indefiniti, sfumati. Quindi chi siamo e verso cosa stiamo andando? Allora come nel 2024, anche nel nuovo anno, Saturno ci interroga su ciò che è reale e su ciò che svanisce, insegnandoci che la speranza non è un'illusione ma un'ancora che si aggrappa al cuore, specialmente quando la realtà sembra infrangersi contro le rocce del disincanto. Saturno per i segni. Partiamo intanto da gemelli vergine sagittario pesci. Per tutto il 2025 i nativi dei segni gemelli vergine sagittario pesci, in particolare quelli appartenenti alla seconda e terza decade, saranno chiamati a confrontarsi con le trasformazioni profonde ma anche ineluttabili che Saturno porta con sé. Questi segni si troveranno a fare i conti con ciò che si è concluso o che si è dissolto, quindi relazioni che si interrompono, persone che si allontanano, progetti che si rivelano effimeri come miraggi. E non solo, Saturno richiama l'attenzione anche sul cambiamento del corpo e delle sue forme, su ciò che un tempo, possiamo dire, appariva solido, integro, incorruttibile e che ora si mostra più vulnerabile al fluire del tempo. È un richiamo severo, non c'è dubbio, ma non privo di saggezza. Saturno ci chiede di accettare il mutamento della materia, cioè di riconoscere che il cambiamento non è distruzione, bensì trasformazione. Attraverso la cura di ciò che si modifica, sia essa una relazione, sia essa un progetto o il nostro stesso corpo, possiamo trovare un nuovo equilibrio all'interno anche di queste criticità, una rinnovata direzione per la nostra identità. Ecco che anche nella lamentazione o nell'insofferenza, Saturno ci guida verso un risveglio. Questo risveglio prevede la necessità di accogliere il cambiamento, significa quindi aprire le porte ad una consapevolezza più profonda di noi stessi e del mondo. Solo così, pur attraverso la prova, possiamo rinascere in una forma diversa, sicuramente più autentica, ma anche più allineata con la verità del presente, cioè su ciò che emerge attorno a noi. Saturno in pesci, con queste atmosfere, interesserà, come vi ho detto, in particolare il segno gemelli, vergine, sagittario pesci. In particolare le seconde decadi, fino, diciamo, da inizio anno fino a qualche mese, quindi le seconde decadi si sono fatte, Saturno in particolare nel 2024, quindi ora vi lascia perdere e sarà meno opprimente, però ancora lo sentirete, almeno ancora per gennaio e per febbraio, sicuramente nel 2025 Saturno sarà più significativo per le terze decadi di gemelli, di vergine, di sagittario e pesci. Questo Saturno ora interesserà le terze decadi di questi quattro segni fino a fine anno 2025. Quindi è un Saturno ancora severo, è un Saturno sicuramente impegnativo, ma che offre anche delle opportunità di accettare il cambiamento come, diciamo, viatico ad una emersione di una vostra nuova identità, di un vostro nuovo modo di vedere il mondo, ma anche le esigenze della vostra individualità, del vostro ego. Quindi è sicuramente un Saturno che impone una revisione all'interno di alcune criticità, che non possiamo non escludere in questo ragionamento su Saturno. Saturno per i segni toro, leone, scorpione, acquario. Allora, i segni del toro, dell'acquario, del leone e dello scorpione saranno protagonisti nel 2025 di un viaggio intimo e trasformativo. Per loro quest'anno rappresenterà una chiamata ineludibile alla riprogrammazione dei propri stili di vita. Quindi c'è una effettiva opportunità di riconsiderare le fondamenta su cui poggiano che cosa? Beh, i valori, i desideri, le aspirazioni personali. Non sarà un cammino facile neanche per questi segni, ma uno di quei percorsi che lasciano però un segno indelebile sull'anima, capace cioè di scolpire una nuova consapevolezza di sé. Non si tratterà di modifiche superficiali, ma di un vero e proprio ripensamento del modo in cui questi segni scelgono di esprimersi nel mondo. I gusti si affineranno in un certo senso, le priorità verranno riscritte, gli stili di vita troveranno nuove coordinate, spesso sorprendenti. Saturno porterà in questi segni una luce che ha l'intenzione di illuminare gli angoli nascosti dell'esistenza, cioè quei luoghi interiori dove risiedono le domande che troppo a lungo abbiamo ignorato. Quindi per questi quattro segni, che poi sono i segni fissi, quindi toro, acquario, leone, scorpione, Saturno non sarà in questo 2025 così nocivo, ma sicuramente avrà lo scopo di spingervi a valutare voi stessi le vostre scelte anche degli anni passati e quindi è un Saturno, passatemi il termine inflazionato, però lo voglio usare, un Saturno carmico più che contro. È un Saturno che vi deve portare ad una fase di, diciamo, di saggia valutazione di ciò che lasciate o che avete vissuto nel 2024, ma anche nel 2023, e ciò che quindi nel 2025 deve essere rinnovato. All'interno di questo processo di rinnovamento è possibile che molte cose del 2023 e del 2024, che sono rimaste sospese, saranno definitivamente tagliate nel 2025 per dare a questi quattro segni una fase proprio nel nuovo anno di inizi, più, come dire, solidi, più costruttivi, più realistici. Quindi è un Saturno che sicuramente, perché Saturno per tutti i segni porta sfide ogni anno, sicuramente impegnativo anche per questi quattro segni, ma più, diciamo, funzionale ad una ricostruzione di una stabilità, di un senso di appartenenza, di un senso di verità e di autenticità che questi quattro segni possono o potrebbero raggiungere nel 2025. Saturno per i quattro segni tropici, quindi per l'Ariete, il Cancro, la Bilancia e il Capricorno. Per questi quattro segni io in particolare sottolineerei il passaggio di Saturno dal segno dei pesci al segno Ariete. Aspettiamoci una voce rombante che squarcia la quiete, cambiamento che percepiremo tra il 25 maggio e il primo settembre, quando Saturno, dalla sua condizione già peregrina, Saturno in pesci, volgerà ancora più in basso nel segno dell'Ariete, sede della sua caduta. Un pianeta nella sua caduta è come un uomo a cui non vengono riconosciuti meriti e per questo è avvinto, frustrato. Allora qui ci saranno sicuramente delle situazioni da valutare, specialmente sul piano collettivo mondiale di questo Saturno che passa in Ariete, che però su cui andremo a ragionare più avanti. Ma per le questioni più individuali sarà un interludio intenso che spronerà i segni in particolare della prima decade di Ariete, Cancro, Bilancia, Capricorno, in generale di tutte le decadi perché comunque c'è un effetto simbolico, ma sarà più sottolineato per le prime decadi, spronerà questi segni a riconsiderare con urgenza i propri piani, i piani della propria vita, i progetti della propria vita in qualsiasi ambito della vita. Allora sarà un momento di criticità, non posso non dirlo, che esigerà quella paziente lungimiranza che solo nell'elemento fuoco possiamo provare a temperare. Ecco, il pericolo di Saturno in Ariete trovandosi nella dimora di Marte e nella sua caduta sarà quello di alimentare un divampare incontrollato di che cosa? Della rabbia sopita. Queste emozioni potrebbero scaturire da situazioni percepite come opprimenti, come ingiuste, spingendo questi segni verso decisioni affrettate di distacco o di separazione. Tuttavia, questo breve passaggio, ripeto, che sarà interessante solo dal 25 maggio al primo settembre, quindi una finestra temporale specifica, questo breve passaggio non deve essere vissuto come una resa al caos, bensì come un preludio a cambiamenti necessari che troveranno maggiore chiarezza poi nel 2026, proprio perché il passaggio in Ariete di Saturno è breve, da maggio a settembre, poi ritorna in pesci, quindi è un preludio, è un'anticipazione che poi comprenderemo meglio per il 2026. Il consiglio più saggio in questo periodo è quello di assecondare le separazioni da tutto ciò che non riconosciamo come autentico o realmente nostro, ma di farlo con equilibrio, evitando di arrecare ingiustizia a noi stessi o agli altri. Ecco, saper lasciare andare ciò che non può essere controllato o posseduto, è un atto indiscutibilmente liberatorio, che ci svincola da aspettative inutili, da pretese eccessive. Solo così potremo attraversare questo fuoco purificatore, con quella temerarietà ambiziosa che tuttavia non distrugge, ma che trasforma e rigenera. Per tutti i segni, la speranza e l'immaginazione sono l'unica consolazione dalle delusioni e dai dolori dell'esperienza, ci dice Italo Calvino. E Saturno nei pesci è il cantore di questa verità, accettare che la vita talvolta richieda sacrificio, attesa e che i sogni non sempre riusciremo a realizzarli. Ma possiamo offrire un rifugio segreto a noi stessi contro le fasi della durezza e del vivere e del sacrificio e della conflittualità. Con Saturno in Ariete ci sarà ricordato che però il rifugiarsi non basta. Dobbiamo, in questo 2025, dobbiamo uscire, affrontare il mondo, correre, cioè il rischio di cadere, ma anche quello di conquistare. Saturno, maestro impietoso e compassionevole, ci invita a riflettere su quali limiti siamo pronti a dissolvere e quali nuove mura siamo disposti a innalzare, non per imprigionarci, ma per proteggerci nella fase della crescita consapevole. Così sotto il suo influsso l'umanità continua il suo viaggio. C'è chi naufragherà, chi troverà la riva, chi affronterà le paure della trasformazione e chi chiederà a Dio perché. Ma anche, avremo anche, chi scoprirà che anche nel naufragio vi è bellezza, perché ciò che conta non è solo arrivare, ma il modo in cui si naviga verso una meta. Saturno ci dona entrambe le chiavi, quella dell'abbandono, quella della conquista, perché solo l'equilibrio può condurci alla vera saggezza. Ecco, sappiate cogliere entrambe le vie, riunificandole in un'unica direzione. Sappiate lasciarvi andare, così potrete conquistare nuove mete e nuovi mondi da esplorare. Cosa di più desiderabile può essere donato dagli dèi? Che un'ora di fortuna si chiedeva a Catullo e Giove, con il suo transito, sembra voler rispondere a questa domanda, a questo interrogativo di Catullo, disegnando traiettorie di crescita, di speranza per l'anno 2025. Abbiamo fino ad ora solcato le atmosfere di Saturno, ma c'è anche Giove che ci dà ottimismo, che ci dà speranza. Allora, nella prima parte dell'anno, Giove porterà a compimento il suo passaggio nel segno dei gemelli, qui il pianeta incoraggia il gioco mentale, il dialogo, l'esplorazione, ma spesso lascia che le promesse restino parole senza solide fondamenta. È un Giove che stimola l'intelletto, Giove in gemelli, ma fatica, questo Giove, perché nel segno del suo esilio, fatica a tradurre le idee in realizzazioni tangibili. I segni di aria e di fuoco, ovvero gemelli, bilancio acquario, riete, leone e saggettario, potrebbero trarre beneficio da questo fermento di possibilità, se però sapranno disciplinare la tendenza a disperdersi, cioè dovreste in qualche modo essere capaci di avventura, di sperimentare, di non rimanere troppo settari o troppo fermi su certe abitudini. Dovete saper, con questo Giove, sperimentare, aprirvi anche al nuovo. Tuttavia, è dal 9 giugno che, con l'ingresso di Giove nel segno del cancro, il pianeta incontra un luogo a lui veramente favorevole, perché il cancro è il segno della sua esaltazione, ma anche il segno della cura, dell'intimità. E qui Giove ci può dare effettivamente un momento di resilienza, un momento di grande capacità di rigenerazione, anche in presenza di difficoltà, di un cielo difficile che sicuramente avremo nel 2025. Qui l'abbondanza gioviana di Giove in cancro si traduce in nutrimento, nutrimento emotivo, in legami profondi, in crescita interiore. È un periodo in cui il mondo può essere abbracciato da una luce più calda, in cui la fortuna non è più solo un dono esteriore, ma una ricompensa per chi sa ascoltare il proprio cuore. Ecco, da giugno in poi, i segni di acqua, cancro, scorpione, pesce, di terra, toro, vergine, capricorno, saranno i principali beneficiari del transito, ma tutti potranno percepire il tocco rassicurante di Giove, perché comunque è un Giove in un segno amico. Quindi anche il capricorno, per esempio, che avrà Giove in opposizione, comunque riceve da Giove il fatto che è in condizione di esaltazione. Quindi sì, un Giove che può portare delle sfide, ma costruttive, non distruttive, non depauperanti. È un momento anche prezioso per i segni di acqua e di terra con Giove in cancro per costruire relazioni, per consolidare progetti, per coltivare speranze autentiche che effettivamente potranno affondare le loro radici in terreni fertili. Giove in cancro ci invita a riflettere su ciò che veramente desideriamo e diciamo sul valore della connessione emotiva come fonte anche di ricchezza, perché Giove porta ricchezza, fortuna, ma non è detto che la fortuna debba necessariamente essere intesa come un qualche cosa di materiale. Sarà un tempo di abbondanza per chi saprà, infatti, riconoscere che appunto la fortuna non è solo un'ora fortunata indicata dagli dèi, ma è il frutto di un cuore che accoglie e di mani che creano. Così sotto il cielo del 2025 il re in esilio, Giove in gemelli, diventa re sul trono, riconquista il luogo che gli aspetta e l'umanità potrà di fronte a qualsiasi emergenza e criticità che incontreremo nel 2025 avere comunque delle possibili alternative e poi sta al collettivo scegliere. Quindi non è tutto perduto, pur rimanendo un cielo difficile, quello del nuovo anno Giove per il 2025 può aiutarci proprio nei momenti di maggiore difficoltà. Ma come Giove aiuterà ogni segno zodiacale? Quindi vi do qualche indicazione veloce. Allora, ariete, con Giove che si muove verso il cancro, l'ambito familiare e domestico diventa per il segno ariete centrale. Quindi le opportunità emergeranno nel ristabilire un equilibrio nei rapporti con i propri cari o nel migliorare le condizioni della casa. È un momento in cui investire nell'intimità, nella costruzione di una base solida per il futuro. Per il segno del toro, allora, per il toro Giove aprirà le porte a nuove occasioni legate alla comunicazione e all'apprendimento. Che si tratti di studi, corsi, viaggi brevi. Il pianeta comunque offre strumenti per ampliare la rete sociale, dare quindi voce ai propri talenti, migliorando anche i rapporti con fratelli e vicinato. Per il segno dei gemelli, nella prima parte dell'anno Giove continuerà a stimolare il vostro segno. Poi dal 9 giugno l'attenzione si sposterà di più sulle risorse materiali, sul valore personale. Quindi è un Giove che porterà una fase importante, diciamo, sul rapporto tra voi e il vostro patrimonio, la sfera economica. Quindi c'è una fase in cui è importante per i gemelli nel 2025 revisionare proprio questo argomento. Non in senso necessariamente negativo, quindi una rivalutazione anche in presenza di opportunità. Cancro, con l'ingresso di Giove nel vostro segno, da giugno sarete, diciamo, protagonisti di un anno che porta crescita e comunque la possibilità di nuovi inizi. Sicuramente un anno anche per voi in cui avremo delle criticità, su questo non c'è dubbio. Saturno entra brevemente in ariete, però questo Giove in Cancro vi dà un grande impulso, una grande voglia di resilienza, di resistere, ma anche di risorgere di fronte alle criticità. Apre sicuramente una nuova ciclica nel segno del cancro. Ecco che si chiudono forse delle collaborazioni, delle situazioni o dei livelli per aprirsi a nuovi step, a nuovi livelli, sicuramente all'interno di maggiori opportunità e di maggiori gratificazioni. Segno Leone, Giove si andrà a presentare nella sfera che possiamo definire come psichica, quindi questo Giove di passaggio da gemelli al cancro per il Leone lavorerà in modo particolare non tanto nelle cose pubbliche o nei rapporti con gli altri, a prescindere con i partner, amici, chi sia, ma lavorerà molto di più sulla psiche, quindi l'argomento è molto specifico. È un Giove che porta a una fase psicologica per il Leone importante di trasformazione, di consapevolezza, ma anche di un ritorno a comprendersi. Quindi è un Giove, come lo potremmo definire, è un Giove più che, ecco, più che estroflesso, è un Giove introflesso nel segno Leone, cioè che porta a un lavoro interiore e ci sono buone opportunità che questo 2025 porti proprio nel segno Leone un momento di grande stabilità e di un ritorno anche di una certa autenticità. Per il segno della Vergine le opportunità arriveranno attraverso amicizie, collaborazioni, il passaggio di Giove in gemelli in cancro porta alla Vergine anche delle gratificazioni, delle conquiste, andrete ad ultimare qualcosa che state coltivando da tempo, nel 2025 possono arrivare dei risultati, c'è comunque Saturno, quindi responsabilità rimangono, però è anche questo un 2025 dove Giove vi offre delle alternative e dove potete effettivamente arrivare degli obiettivi sempre all'interno di sacrifici, quelli non mancano mai, ma c'è un portare avanti degli obiettivi e un raggiungimento anche di qualche step, perché spesso le criticità di Saturno rappresentano anche momenti, per esempio, in cui concludiamo dei percorsi che sono stati lunghi, logoranti. Questo appoggio di Giove alla Vergine, specialmente di Giove in cancro, segna a mio giudizio la conclusione di certi progetti difficili che vi siete trascinati o avete portato avanti negli ultimi anni e quindi si presentano delle interessanti conclusioni gratificanti che danno nuove prospettive alla Vergine. Bilancia, il pianeta della fortuna illumina la vostra carriera e il vostro ruolo sociale dando delle discontinuità, è quindi un anno in cui mettersi in gioco, questo Giove in cancro vi sfiggerà anche un po' alla trasgressione, quindi a dosare di più, portando anche la possibilità di qualche rischio, attenti quindi agli investimenti azzardati, ma sicuramente è un Giove che vi stimolerà molto, specialmente nella sfera professionale. Scorpione, allora Giove in cancro porta sicuramente una spinta a esplorare, ad aprirsi a nuove culture, a interessarsi molto all'altro, questo lo vedremo anche dopo nella sfera sentimentale. È un Giove che vi porta a volersi aprire all'amore, al sentimento e quindi anche sul piano lavorativo, professionale, è un Giove che porta sicuramente delle interessanti gratificazioni, dei riconoscimenti e una fase in cui sarete diciamo così un po' più in pace con voi stessi e con le vostre idee. Segno sagittario, con Giove che dai gemelli si spossa al segno del cancro avremo un'importante fase in cui saranno affrontate questioni familiari, ma anche questioni finanziarie e progettuali. Per il sagittario c'è il bisogno di chiudere dei progetti o concludere delle collaborazioni, delle attività nelle quali non vi riconoscete più e quindi questo Giove che poi passa dai gemelli al cancro vi spinge o vi porterà verso delle nuove cose, quindi avete bisogno di novità. Quindi nel sagittario c'è questo bisogno, anche perché, anche per voi lo abbiamo visto, c'è Saturno che ancora insomma è impegnativo, quindi c'è questo bisogno di cambiamento, cioè è probabile che certe cose le vedete come vecchie e quindi non vi stimolano più, non vi piacciono più. Il passaggio di questo Giove vi dà quindi un'intuizione, una volontà, un desiderio di novità, novità che entrano nella vita del sagittario primo nuovo anno, sì ci sono delle interessanti novità di progetti nuovi che effettivamente danno un senso di cambiamento e di discontinuità. Segno capricorno, le relazioni sia personali che professionali, quindi quelle private anche, saranno il fulcro delle opportunità che porta Giove, cioè momento di confronto con il partner, confronti che possono essere anche sull'organizzazione domestica, economica, progettuale e quindi confronti che possono anche alludere a momenti di criticità dove però il segno riesce a trovare accordo con l'altro. Questo Giove è molto significativo per quel capricorno che sta affrontando questioni amministrative o legali perché questo Giove può portare proprio il patteggiamento o la capacità di risolvere un momento di difficoltà appunto nei contesti amministrativi e legali. Acquario Giove in Cancro punta l'attenzione sul benessere, sulla routine quotidiana e un anno per investire nella cura del corpo e della mente, per migliorare l'organizzazione della vita e per adottare abitudini che favoriscano salute e produttività. Questa cosa produrrà poi un beneficio nel lavoro, nelle relazioni d'amore, nelle relazioni familiari, in tutto ciò che vive l'acquario. Quindi questo Giove per voi è molto bello, passa dai gemelli al cancro, questi passaggi sono comunque armonici per il segno dell'acquario. E quindi c'è questo interessante focus proprio sulla guarigione, sulla consapevolezza del proprio corpo, sul ripristinare un certo stile di vita che darà poi dei benefici anche nelle cose esterne, in tutte le cose che state o che porterete avanti durante il nuovo anno. Abbiamo poi il segno dei pesci. Con l'esaltazione di Giove in cancro, quindi quando passerà dai gemelli al cancro, il cuore del vostro 2025 sarà che cosa? Creatività e amore. Questo è il momento per dare spazio a talenti, a dedicarsi a passioni artistiche, a coltivare le relazioni affettive in corso o coltivare una nuova anche relazione per prendere, diciamo, per accogliere delle gratificazioni anche economiche e lavorative. Il passaggio di Giove in cancro è interessante perché avviene in una fase in cui Saturno è anche sul vostro segno. Quindi è un momento di architettura, di costruzione, è un momento in cui potrete costruire proprio grazie a delle fondamenta stabili, che sono state il risultato di prove, di sfide che ora hanno, trovano queste sfide, un'atmosfera in cui saprete trasformare il tutto in cemento. Cioè i pesci nel 2025 sapranno consolidare, solidificare, usare le esperienze del passato per riunificare e per arrivare anche a interessanti gratificazioni sul piano affettivo relazionale e per i pesci si parla sempre di amore e emozioni, ma il 2025 per i pesci sarà anche un anno molto interessante per le conferme professionali ed economiche. Passiamo al livello di Marte. Che cosa possiamo aspettarci da Marte nel 2025? A gennaio 2025 l'anno si aprirà con una potente opposizione tra Marte e Plutone, che è un aspetto che intensificherà le energie per alcuni segni, in particolare Leone e Acquario, insieme anche a Toro e Scorpione, sentiranno con maggiore forza l'attenzione di questa configurazione iniziale. Quindi sarà un momento di svolta in cui emergerà un bisogno urgente per questi segni di lasciarsi alle spalle tutto ciò che nel 2024 non è stato consolidato o raggiunto, favorendo quindi tagli definitivi e decisioni risolutive. A febbraio Marte e Saturno formeranno un'alleanza significativa, sarà un trigono influenzando l'intero Zodiaco con un momento audace. Questo aspetto offrirà tutti i segni una maggiore capacità di compiere scelte decisive in quelle aree della vita che richiedono impegno e senso di responsabilità. Passiamo poi ad aprile. Marte sarà particolarmente incisivo in questo mese. I segni di acqua, cancro, scorpione e pesci riceveranno da Marte l'energia necessaria per avanzare nelle attività professionali e consolidare i rapporti affettivi, trovando quindi il giusto slancio per rafforzare le basi su cui si stanno costruendo, in cui si sta costruendo il proprio futuro. Per i segni di fuoco, quindi ariete, leone e saggettario, aprile sarà un periodo intenso, ricco di iniziative, tuttavia la sfida principale per questi segni sarà imparare a gestire con saggezza il potere e l'influenza che esercitano sugli altri, sulle loro stesse abitudini. Nel mese di giugno, invece, saranno più coinvolti i segni di aria, quindi gemelli, bilancia e acquario, più coinvolti da Marte, e saranno, diciamo, particolarmente favoriti questi tre segni per lo scopo per il raggiungimento di opportunità nuove, significative, specialmente per le consapevolezze o gli eventi, diciamo, legati alla sfera professionale, delle attività, dei progetti professionali. Sarà quindi anche un momento interessante per i tre segni di aria per riorganizzare anche la vita pubblica e ridefinire obiettivi e strategie. Per quanto riguarda i segni di terra, quindi parliamo di toro, vergine e capricorno, anche per questi tre segni il momento più interessante di Marte sarà legato al mese di giugno. Questi tre segni di terra saranno spinti a concretizzare scelte incisive, specialmente nelle questioni economiche, quindi è la sfera economica toro, vergine e capricorno che questo Marte porta per il mese di giugno con quello che potrebbero essere dei dettagli o delle decisioni comunque ardue che danno un senso di avanzamento, ma anche di scelta, di cose spiazzanti anche. Quindi è un giugno dove i tre segni di terra saranno determinati, strategici, a ottenere certi scopi, certi obiettivi. Quindi è un mese, diciamo così, molto laborioso per i tre segni di terra. Ad agosto poi lo zodiaco intero sarà sottoposto a momenti impegnativi, ricordiamoci il mese di agosto. Quindi è un momento in cui in generale, senza ancora specifico per ogni segno, nel mese di agosto abbiamo delle criticità per tutti i segni. Quindi è un momento, diciamo, una fase down, una fase in cui saremo sottoposti a delle prove che Marte porta. Marte che cosa porta come prove? Porta l'ingerenza, l'invasione e quindi la necessità di proteggere i nostri contenuti, le cose che abbiamo realizzato. Quindi è un momento in cui dobbiamo dimostrare la capacità di difendere con coraggio, con autenticità, con fermezza i nostri interessi. Abbiamo poi ottobre, dove c'è un alleggerimento di questa tensione di agosto, quindi momento dove Marte si troverà nel suo domicilio favorito e avrà appunto un interessante delle interessanti relazioni a Giove, successivamente anche degli aspetti interessanti a Saturno. Quindi c'è un recupero, quindi dopo le sfide, diciamo così, di agosto-settembre c'è questo momento di ripresa dove in qualche modo riconquisteremo, andremo a riconquistare un ordine, una visione d'insieme, una maggiore stabilità per tutto lo zodiac. Poi però questa fase, diciamo, buona di Marte riavrà un picco, diciamo, negativo down, che sarà per l'ultimo mese di dicembre. Impegnativo nuovamente per tutti i segni, perché avremo un mese che sarà un po' più instabile, dove saremo noi in questo mese ad essere un po' più disinteressati alle cose, alle nostre cose, e quindi avremo più quella, quell'atteggiamento di lasciare andare, di non prestare attenzione e cura alle cose per noi importanti. E questo, quindi mese di dicembre, può essere un mese fragile, perché in questa nostra disattenzione, in questo calo dell'attenzione, possono entrare nei nostri vissuti quelli che io chiamo parassiti e opportunisti, che vanno a togliere, a succhiare via tutto ciò che noi abbiamo conquistato con fermezza e con fierezza. Nel mese quindi di dicembre prestiamo attenzione alle ingerenze esterne, proteggiamo le cose per noi importanti, apriamo gli occhi anche di fronte a chi definiamo amico. Mercurio durante il 2025 avrà tre moti retrogradi nel segno di fuoco. Per questo anno, in particolare, Mercurio parla ai tre segni di fuoco. Quindi ogni anno Mercurio ha circa, anzi ha quasi sempre, tre moti retrogradi in un anno, in una triplicità. In questo momento, in questo 2025, la triplicità coinvolta è l'elemento fuoco. Quindi, in particolare, bisogna fare un focus su ariete, sagittario e leone. Allora, i tre moti retrogradi di Mercurio nell'elemento fuoco, uniti anche a Giove, tra gemelli Cancro, Saturno, tra pesci e ariete, offre al segno ariete una fase di revisione professionale importante. Quindi per la riete ci sono delle revisioni sulle collaborazioni, su come portare avanti i propri progetti e una fase di restyling, anche all'interno di alcune criticità, cioè dove potrebbe la riete esprimere delle selezioni, essere un segno più selettivo, in qualche modo allontanarsi da alcune collaborazioni, perché in qualche modo c'è un bisogno della riete di dare il primato alla propria immagine, più che alla immagine altrui. Quindi è un anno particolarmente interessante di restyling per il segno ariete nelle attività pubbliche, sociali, lavorative. Per il segno sagittario, Mercurio retrogrado, nei tre segni di fuoco, propone proprio quello che già vi ho detto un po' poc'anzi anche con i transi di Giove, cioè l'andare verso dei progetti nuovi abbandonando dei contesti, dei lavori, dei settori che non vi gradificano più. Quindi nel sagittario c'è una discontinuità e questo Mercurio nel 2025 vi farà partorire, vi farà siglare, anzi usiamo questo termine, dei patti, delle collaborazioni nuove, dove in questo caso, a differenza che nel segno della riete sarà più individualista, nel sagittario c'è collaborazionismo, collaborazione, dualità, bisogno di interagire con l'altro all'interno di progetti simili ma che si accomunano verso una meta unica. Questo è favorevole, questo è favorevole per il sagittario perché propone sicuramente interessanti opportunità durante il 2025. Per il segno leone questi moti retrogradi di Mercurio portano in particolare un cambiamento nella organizzazione della qualità della vita rispetto alle attività lavorative, cioè un momento in cui il segno leone specialmente anche per via dell'ingresso di Plutone in acquario, quindi opposto come simbologia al segno leone, è un momento in cui l'acquario deve decidere in questo anno e anche negli anni a venire un cambiamento, cioè un'accettazione di un cambiamento, come se il leone non riesce più a, non si sente più a suo agio all'interno di certi ambienti, di certe condizioni, di certe contrattualità, di certe abitudini, di certi ritmi e fino ad ora la volontà del cambiamento è stata diciamo così teorica, passo avanti passo indietro ma mai una decisione, ora in qualche modo dal 2025 cominciano ad essere prese delle scelte non più teoriche ma pratiche, quindi c'è per il leone distacco da certi contesti, da certi ambienti, da certe attività dalle quali volete, non voglio dire scappare, ma dalle quali, dai quali ambienti comprendete o avete già compreso che è esaurito il vostro ruolo e che in quell'ambiente quell'atmosfera non vi riconoscete più. Quindi ora dalla teoria si passa alla pratica, alla necessità di un distacco da contesti lavorativi, ruoli, responsabilità che non sentite più più vostri, il che non significa abbandonare il lavoro o licenziarsi, può significare anche che all'interno del lavoro cominciate a far capire agli altri, al vostro capo, al vostro superiore, la necessità di un cambiamento, di uscire fuori da un ruolo, da una mansione per aprirsi ad altre mansioni, ad altri ruoli in cui sarà rivalutato anche il vostro stile, le vostre abitudini, il vostro modo di investire nella vita pubblica, in questo caso nella sfera professionale. E per gli altri segni ho fatto un approfondimento un po' più dettagliato per i tre segni di fuoco, ma sicuramente questo percurio nella triplicità di l'elemento fuoco, quindi l'elemento fuoco avrà questo moto retrogrado, sarà significativo anche per gli altri segni. Per esempio per il toro questo mercurio nel 2025 porta in particolare a gestire questioni economiche, per il gemelli a migliorare le comunicazioni con gli altri, proprio nella sfera professionale. Per il cancro è un mercurio che spinge a farvi vedere progetti, a rivalutare anche le collaborazioni. Per la vergine possiamo avere un mercurio che intende fornirvi o darvi un approccio più analitico alle attività lavorative e c'è l'inizio di progetti o di lavori o di contrattualità nuove o di mansioni che entrano già nel lavoro in corso, di maggiore responsabilità, dove è richiesta anche un vostro coinvolgimento, una certa vostra passione lavorativa e un certo investimento. Per la bilancia le opportunità sono quelle di andare a cambiare, diciamo, le dinamiche di leadership. Quindi qui c'è un mercurio che vi spinge a rivalutare i colleghi, i capi, quindi c'è la possibilità che cambiano appunto i progetti lavorativi o i team leader o in qualche modo cambiano le strategie per arrivare a certi obiettivi lavorativi. Quindi c'è più un cambiamento nella bilancia di progetto, di progettualità, di modo di procedere all'interno del lavoro per dei cambiamenti legati a quello che possiamo chiamare colleghi o comunque leader. Quindi c'è nella bilancia un cambiamento, io oserei dire, anche di ambiente lavorativo, la possibilità di un cambiamento anche dell'ambiente lavorativo. Per lo scorpione questo mercurio rappresenta un momento di intuizione e quindi è un momento che per lo scorpione ci possono essere delle opportunità nuove, lavorative, di collaborazione nuove, di contrattualità nuove, offerte nuove anche perché c'è Giove poi in cancro, quindi è un mercurio che può dare delle alternative, ecco mercurio di alternative. Per il capricorno è un mercurio che impone di rivedere le strategie a lungo termine, quindi vi chiede più praticità e una lungimiranza a breve termine, cioè più corta. Come dire, amici del capricorno nel 2025, non pensate a progetti troppo elevati, le cui mete possono essere raggiunte tra 5, 10, 20 anni. Ragioniamo su quello che deve essere realizzato nell'immediato, quindi vi chiede più praticità, più adesione al presente, quindi vi spinge a lavorare molto su obiettivi veloci, mentre per l'acquario è un mercurio che invece amplifica le comunicazioni, le leadership, molti acquario potrebbero diventare anche figure importanti o ricevere delle gratificazioni. C'è collaborazione, ecco è un mercurio che porterà all'acquario una forte dialettica in ambito lavorativo, quindi è un mercurio per il 2025 molto positivo perché è nato sotto il segno dell'acquario anche per delle nuove contrattualità, dei nuovi lavori. Per il segno dei pesci questo mercurio offrirà una opportunità di riorganizzare il lavoro con una maggiore flessibilità, quindi c'è la possibilità di trovare adattamento nel lavoro. Anche laddove ci sono state delle criticità, delle difficoltà, degli scontri con gli altri, si riesce a trovare nel 2025 un allineamento con l'altro, con gli altri e quindi si trova in un certo senso i pesci saranno molto plastici, quindi capaci di allattarsi agli ambienti ma non sarà un adattamento passivo, obbligato, frustrato. Un adattamento piacevole dove il segno dei pesci proprio avrà questo bisogno di adattarsi a nuove realtà, a conformarsi in un certo senso a ciò che appare trovando, emergendo nel segno dei pesci una flessibilità, quindi una disponibilità verso l'altro, ma il segno dei pesci incontrerà nel 2025 negli ambienti lavorativi anche delle offerte che in qualche modo possono essere accolte piacevolmente con una disponibilità e con una flessibilità. E per gli altri segni ho fatto un approfondimento un po' più dettagliato per i tre segni di fuoco, ma sicuramente questo mercurio nella triplicità dell'elemento fuoco, quindi l'elemento fuoco avrà questo moto retrogrado, sarà significativo anche per gli altri segni. Per esempio per il toro questo mercurio nel 2025 porta in particolare a gestire questioni economiche. Per il gemelli a migliorare le comunicazioni con gli altri, proprio nella sfera professionale. Per il cancro è un mercurio che spinge a far rivedere progetti, a rivalutare anche le collaborazioni. Per la vergine possiamo avere un mercurio che intende fornirvi o darvi un approccio più analitico alle attività lavorative e c'è l'inizio di progetti o di lavori o di contrattualità nuove o di mansioni che entrano già nel lavoro in corso di maggiore responsabilità, dove è richiesta anche un vostro coinvolgimento, una certa vostra passione lavorativa e un certo investimento. Per la bilancia le opportunità sono quelle di andare a cambiare, diciamo, le dinamiche di leadership. Quindi qui c'è un mercurio che vi spinge a rivalutare i colleghi, i capi. Quindi c'è la possibilità che cambiano appunto i progetti lavorativi o i team leader o in qualche modo cambiano le strategie per arrivare a certi obiettivi lavorativi. Quindi c'è più un cambiamento nella bilancia di progetto, di progettualità, di modo di procedere all'interno del lavoro per dei cambiamenti legati a quello che possiamo chiamare colleghi o comunque leader. Quindi c'è nella bilancia un cambiamento, io oserei dire, anche di ambiente lavorativo, la possibilità di un cambiamento anche dell'ambiente lavorativo. Per lo scorpione questo mercurio rappresenta un momento di intuizione e quindi è un momento che per lo scorpione ci possono essere delle opportunità nuove lavorative, di collaborazioni nuove, di contrattualità nuove, offerte nuove anche perché c'è Giove poi in cancro. Quindi è un mercurio che può dare delle alternative. Ecco, mercurio di alternative. Per il capricorno è un mercurio che impone di rivedere le strategie a lungo termine, quindi vi chiede più praticità e una lungimiranza a breve termine, cioè più corta, come dire, amici del capricorno nel 2025, non pensate a progetti troppo elevati, le cui mete possono essere raggiunte tra 5, 10, 20 anni. Ragioniamo su quello che deve essere realizzato nell'immediato, quindi vi chiede più praticità, più adesione al presente, quindi vi spinge a lavorare molto su obiettivi veloci. Mentre per l'acquario è un mercurio che invece amplifica le comunicazioni, le leadership. Molti acquarii potrebbero diventare anche figure importanti o ricevere delle gratificazioni. C'è collaborazione, ecco, è un mercurio che porterà all'acquario una forte dialettica in ambito lavorativo, quindi è un mercurio per il 2025 molto positivo perché è nato sotto il segno dell'acquario anche per delle nuove contrattualità, dei nuovi lavori. Per il segno dei pesci, questo mercurio offrirà una opportunità di riorganizzare il lavoro con una maggiore flessibilità, quindi c'è la possibilità di trovare adattamento nel lavoro. Anche laddove ci sono state delle criticità, delle difficoltà, degli scontri con gli altri, si riesce a trovare nel 2025 un allineamento con l'altro, con gli altri, e quindi si trova, in un certo senso, i pesci saranno molto plastici, quindi capaci di allattarsi agli ambienti, ma non sarà un adattamento passivo, obbligato, frustrato. Un adattamento piacevole dove il segno dei pesci proprio avrà questo bisogno di adattarsi a nuove realtà, a conformarsi in un certo senso a ciò che appare, trovando, emergendo nel segno dei pesci una flessibilità, quindi una disponibilità verso l'altro, ma il segno dei pesci incontrerà nel 2025 negli ambienti lavorativi anche delle offerte che in qualche modo possono essere accolte piacevolmente, con una disponibilità e con una flessibilità. Veniamo alla sfera affettiva, l'amore. L'amore è un argomento che nel 2025 emergerà sicuramente con il passaggio di Giove in Cancro, l'amore sarà un argomento fondamentale per tutto lo zodiaco. Ora, non possiamo fare una previsione segno per segno perché è impossibile, dovremmo analizzare tutti i transiti di Venere per ogni segno, per ogni mese e in un approfondimento video è ridicolo farlo, impossibile farlo. Però possiamo dire una cosa, che abbiamo dei momenti specifici dove dobbiamo comprendere la ciplica, la dinamica tra Venere e Giove perché i momenti migliori per l'amore, solitamente, li abbiamo quando abbiamo rapporti armonici tra Venere e Giove. Questi rapporti armonici li abbiamo in particolare a giugno con un sestile Venere e Giove, ad agosto con una congiunzione Venere e Giove, ad ottobre con un sestile Venere e Giove, a novembre con un trigono Venere e Giove. Questi quattro mesi che parlano di amore, cioè dove avremo in particolare la sfera affettiva emotiva più sviluppata o dove avremo un po' più eventi che ci parlano di relazione, di affetti, di emozioni. Ripeto, giugno-agosto, ottobre-novembre. Ad agosto in particolare c'è una fase di criticità dove però la congiunzione Giove-Venere e Venere e Giove ci dà l'opportunità ad un riscatto, quindi di fronte alla criticità accettare una realtà e di fronte a questa realtà promuovere dei cambiamenti. Migliore è sicuramente Giove, giugno e migliore è sicuramente ottobre per le faccende amorose. In generale comunque giugno-agosto-ottobre-novembre ci vengono dati dagli aspetti, dalle relazioni Venere e Giove, delle opportunità nell'ambito affettivo. Per il 2025 queste opportunità a quali segni, per quali segni saranno più sviluppate? Per tutti i segni intanto, in particolare però, dobbiamo vedere i segni legati a Giove-In Cancro. Quindi in particolare nel 2025 l'argomento amore sarà più sviluppato per il segno del cancro, segno dei pesci, segno dello scorpione. Questi tre segni più significativi. Inoltre, anche per il segno del toro e per il segno della vergine. Questi altri due segni che intendo dare per il 2025. Quindi abbiamo cinque segni. Vergine, toro, cancro, scorpione, pesce. Per questi cinque segni le dinamiche di giugno-agosto-ottobre-novembre tra Venere e Giove segnano un momento di potenzialità nella sfera amorosa. Ora, la sfera amorosa, che cos'è? Può parlarci di amore, quindi relazione con l'altro. Se abbiamo una relazione in corso, possiamo consolidare il rapporto, costruire dei progetti con la persona che amiamo. Se siamo single, possiamo aprirci ad una conoscenza nuova, avere un'opportunità per una esperienza affettiva nuova, costruttiva. Ma l'amore non è solo questo. L'amore è anche convalescenza, guarigione dalla sofferenza, dalle malattie, è guarigione dalla disperazione, è guarigione dall'infelicità. L'amore è questo anche. E quindi, per questi cinque segni in particolare, ripeto, toro, vergine, cancro, scorpione, pesci, il 2025 può effettivamente offrire anche una fase di guarigione, di ripresa del corpo, del vigore del corpo, ma ripresa anche dell'animo, in un certo senso dell'ottimismo, anche di fronte alle criticità. Non sto dicendo che a questi cinque segni che il 2025 sarà bellissimo. Sto dicendo che anche di fronte ad eventuali criticità che per questi segni che ho elencato per alcuni in particolare ci saranno, come ho detto in precedenza, le dinamiche però tra Giove e Venere offrono quello che si chiama resilienza, cioè la capacità di fronte alle difficoltà di risorgere, di riscattarsi. Quindi il risorgimento per il 2025 io lo vedo in particolare per i segni toro, vergine, cancro, scorpione, pesci, con molte opportunità, con molte possibilità, con molte capacità per questi segni di consolidare nel 2025 una fase, diciamo, di rinnovamento, ma anche una fase di consapevolezza e di dove ci sono opportunità di gratificazione nelle diverse aree della nostra vita. Non v'è mutamento nei cieli che non risuoni nei cuori degli uomini. Si potrebbe dire così osservando il movimento maestoso, solenne dei pianeti generazionali nel corso del 2025. Ecco, lascio come ultimo capitolo in questo dialogo sul 2025 ho lasciato per ultimo i tre pianeti generazionali Plutone, Urano, Nettuno come, che io intendo vedere in questo momento come arcani custodi del tempo pianeti lentissimi che quindi non ha senso fare un oroscopo che tra l'altro è un momento di intrattenimento con i tre pianeti generazionali perché dovremmo specificare ogni decade, ogni momento e all'interno di ogni decade specificare le date esatte per ogni segno per indicare Plutone sarà più significativo ai nati del giorno XY Urano per cui cioè diventa impossibile ma su questi tre generazionali possiamo in qualche modo fare un ragionamento vedendoli come pianeti che sono custodi appunto del tempo pianeti che hanno una danza particolare molto lenta che avviene nei segni e che ci danno un momento di riflessione sulle questioni più collettive quindi che interessano tutti noi non dei segni specifici o delle decadi specifiche allora su Plutone in acquario Plutone è il signore degli abissi signore della metamorfosi avanza fino al al grado 3.49 dell'acquario per poi retrocedere fino al grado 1.22 dell'acquario richiama questo Plutone nel 2025 l'immagine di una torcia che illumina il buio della notte più fonda è il segno della comunità delle utopie delle innovazioni sociali che Plutone significa e che plasma attraverso la diciamo le sue simbologie i suoi significati le strutture obsolete secondo me con Plutone in acquario saranno ormai smantellate ma ha un processo lungo lento e dalle rovine dei vecchi diciamo paradigmi potrebbero emergere nuovi ordini quindi è un Plutone in acquario che lo vedo come una sorta di araba di araba fenice quindi di una di un'araba fenice però che è cenere e quindi dobbiamo aspettare che questa fenice risorga in una nuova luce in una nuova fiamma in una nuova in una nuova illuminazione questo moto riflette il tormento e la bellezza della rigenerazione e sicuramente mi fa pensare Plutone in acquario al concetto che nulla si crea nulla si distrugge ma tutto si trasforma con urano invece nel passaggio di urano invece dal toro ai gemelli dobbiamo riflettere sul fatto che urano è l'araldo del cambiamento della evirazione dei taglinetti urano in qualsiasi aspetto lo abbiamo quando lo abbiamo di aspetto esatto congiunzione trigono ma anche quadrature opposizione sempre significa un taglio un qualche cosa che improvvisamente cambia nella nostra vita un cambiamento però inaspettato nel bene o nel male un cambiamento che crea qualcosa di imprevedibile rispetto alle nostre abitudini questo urano che passa dal toro ai gemelli sul piano collettivo propone una domanda che io faccio a tutti quanti quale verità cerchiamo e quale fardello siamo disposti a portare con noi urano quando passa dal toro ai gemelli è un urano che vuole farci compiere un sacrificio vuole farci compiere un taglionetto ma finalizzato ad un cambiamento perché un urano in gemelli è nella casa di mercurio quindi è un urano dinamico che intanto ci spinge a fare scelte intanto ci impone a scegliere che cosa vogliamo portare con noi quali fardelli quindi quale croce vogliamo portare sulle nostre spalle nella nostra via crucis per arrivare però ad un momento di verità e di esplicitazione della sofferenza perché urano in gemelli rappresenta anche le sofferenze della comunicazione e delle relazioni mondiali ora qui non entro nel dettaglio ma lo vedremo nell'approfondimento di astrologia mondiale urano in gemelli è coinciso nella storia in momenti molto critici nei diciamo in quello che possiamo chiamare conflitto tra i popoli quindi è un urano ecco perché parlo di quale fardello vogliamo portarci perché probabilmente sul piano anche collettivo intenderà portarci a degli scontri con gli altri che hanno però lo scopo di liberarci perché è un urano che andrà a valorizzare le differenze che esistono non è vero che siamo tutti uguali che il maschile è uguale al femminile o che il bianco è uguale al nero ci sono differenze non ci sono pesi diversi tutto ha lo stesso peso e la stessa importanza ma esistono delle differenze e ovviamente urano poi in cancro che avremo più in là avrà lo scopo di riunificare queste differenze ma solamente nel momento in cui comprenderemo la differenza tra me e l'altro tra il bianco e il nero nel momento in cui c'è un discernimento vero una consapevolezza vera potremmo aspirare usiamo il condizionale ad una unificazione ad una integrazione del bene e del male del bianco e il nero in una nuova realtà in una nuova verità ma questo lo comprenderemo nel ciclo di urano che è molto lento per quanto riguarda invece nettuno in pesci ariete abbiamo nel 2025 questo passaggio breve di nettuno poi ritorna in pesci quindi questi passaggi sono comunque brevi ma ci danno un qualche preambolo mi fa pensare questo passaggio di nettuno verso il segno ariete in ad un concetto che vi dico così che non si deve costruire il futuro dimenticando quello che è stato nel passato ecco questo nettuno in ariete rievoca melanconie ricordi anche di tempi passati è un nettuno che in qualche modo si allinea anche alle simbologie di saturno che brevemente nel 2025 sarà in ariete quindi ha simbologie legate a marte perché nettuno in ariete è nella casa di marte e quindi è un nettuno che infiamma vecchie nostalgie vecchie idee vecchi progetti vecchie io userei solamente il termine vecchie ideologie che ritornano in superficie sotto ovviamente un nuovo mondo una nuova idea di mondo un nuovo tempo diverso da quello che è stato e ecco che nettuno in ariete può rappresentare il fanatismo può rappresentare l'ideologia l'ideologia feroce può rappresentare l'eccesso nel portare avanti la propria idea del mondo con una certa cruenza con una certa violenza potenzialmente esplosiva e distruttiva anche questo lo vedremo in un ragionamento più specifico di astrologia mondiale ecco il paradosso che il 2025 ci offre qual è è quello di un mondo che si trova stretto fra il peso del rinnovamento e la gravità del dubbio plutone scava delle tombe per vecchie istituzioni urano abbatte i pilastri dell'ovvietà e nettuno ci chiede di navigare a vista con una bussola che non sempre però punta a nord e può puntare anche verso direzioni in cui ci sono delle guerre dei conflitti su cui ragionare o in cui confrontarci abbiamo un crocevia nel cielo dove il collettivo si fa specchio di un caos creativo che abbiamo in questi tempi e che avremo durante i passaggi dei generazionali urano nettuno questi nuovi segni e le ombre degli astri questi momenti di ombra perché il passaggio di un generazionale da un segno all'altro è sempre un momento critico e questo passaggio lo abbiamo di plutone nettuno e urano proprio tra fine 2024 e 2025 ci sono questi passaggi plutone lo ha già completato queste questo momento diciamo di turbine di torbidità di criticità ci deve venire alla mente che la creazione è sempre il figlio più giovane della distruzione cioè ciò che viene creato ciò che diciamo è creato viene da una fase di distruzione di caos da quel caos si è ricostruito un nuovo mondo in un certo senso il 2025 ci parla ancora di caos ci parla ancora di tante sfide che sul collettivo dobbiamo vivere e affrontare e forse dobbiamo renderci conto che più che esorcizzare questo caos dobbiamo ahimè riconoscerlo più che fare finta di nulla accettare che c'è un momento di criticità e affrontarlo con le idee giuste con la saggezza giusta e con il discernimento giusto quindi diciamo che la sfida per il collettivo non sarà solo adattarsi ma vivere con il fervore di chissà che anche il caos è parte della bellezza cosmica e questo quindi è l'augurio che io faccio a tutti voi vi auguro un buon Natale delle buone festività e per quanto possibile vi auguro un buon 2025 o meglio vi auguro un anno di consapevolezza e di tante opere che possano portarvi gratificazione o comunque un momento di consapevolezza del vostro valore e dell'importanza di ogni vostro singolo gesto come individui per il bene di tutti e dell'importanza e dell'importanza di tutti Grazie a tutti.